ormai insomma un bel po' di anni fa, intorno alla metà degli anni 90, ho lavorato per qualche anno in un centro di ricerca trentino sempre occupandomi di comunicazione e pensavo venendo qui che da quell'esperienza mi sono portato via molte cose ma due in particolare che magari a molti di voi potranno sembrare scontate ma insomma che per me non lo erano del tutto. La prima è la consapevolezza che le scoperte scientifiche, piccole, grandi, molto grandi come quella di cui ci occuperemo stasera solitamente poggiano comunque su altre scoperte scientifiche, si collocano su una sorta di continuum della ricerca. ci sono però anche le fasi cosiddette rivoluzionarie, le rivoluzioni scientifiche per usare un concetto caro a un grande filosofo della scienza Thomas Kuhn che nei primi anni 60 pubblicò proprio un libro su questo. A me pare che nella scoperta che parleremo stasera siano presenti entrambi questi elementi, è una scoperta che si colloca lungo un percorso molto lungo poggia su basi che sono state poste naturalmente da altri ricercatori, altri team di ricerca che nel mondo si sono occupati di questa materia al tempo stesso però presenta delle caratteristiche di eccezionalità e siamo contenti di parlarne con alcuni dei protagonisti. Arrivo alla seconda cosa che mi sono portato a casa da questa esperienza fatta in passato ed è la consapevolezza che le scoperte scientifiche hanno una paternità. Dietro ci sono delle persone, ne parlavo qualche minuto fa con Antonio, che hanno lavorato spesso molto duramente in condizioni magari non sempre ottimali, persone con dei nomi e dei cognomi. Mi sembra bello presentare alcune di queste persone questa sera in un contesto come questo e in una sezione di Trento Smart City chiamata Smart People perché penso che sia per chi si interessa di scienza una delle esperienze più belle che si possano vivere cioè sentire, narrare dalla viva voce di chi ha partecipato a questo tipo di attività il percorso che è stato fatto. Da parte mia solo una piccola introduzione che in parte si rifà anche ad una mostra che viene ospitata in questo periodo qui al Muse che gentilmente ci ha dato ospitalità e che rimarrà visibile credo per tutto l'arco dell'anno. Parliamo naturalmente di decodificazione del genoma umano. Quando è che l'idea di avviare un progetto di questo tipo si comincia a delineare? Fra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. Naturalmente prima ci sono scoperti importanti nell'arco di oltre un secolo, nel 53 se non vado errato, come sapete la scoperta anche della struttura doppia elica, questa immagine che molti di noi abbiamo visto o a scala a chiocciola che sale del DNA. Nel corso degli anni 70 le aspettative continuano a crescere anche con il contributo di personalità del mondo della ricerca italiano. uno per tutti, il premio Nobel Renato Dulbecco, premio Nobel nel 75 che inizia a parlare della possibilità di curare almeno alcuni tipi di tumori attraverso questo approccio. Questa esperienza, questa aspettativa continua a crescere e nel corso degli anni 80, soprattutto negli Stati Uniti, inizia a prendere forma il progetto genoma. Una cosa interessante, forse poco nota, che tra i primi soggetti promotori di questa, che è una delle più grandi imprese scientifiche del ventesimo secolo, vi è il Dipartimento dell'energia americano. Spesso grandi scoperte scientifiche sono nate in ambiti diversi rispetto a quelli dove sono poi impattate le ricadute finali. Pensiamo ad internet, pensiamo al WWW, che ha comunque un'origine, almeno in parte militare. Il Dipartimento dell'energia americano era interessato, tra le altre cose, a capire quale potesse essere l'impatto dell'energia nucleare sugli organismi biologici, insomma erano gli anni ancora in cui era molto forte questo tipo di interesse. Nel 1988 il congresso americano approva formalmente il varo di un progetto di questo tipo e nel 1990 parte il progetto Genoma, un progetto che coinvolge almeno un migliaio di ricercatori nel mondo. Il centro, il focale dell'attività sono gli Stati Uniti, ma con la partecipazione di laboratori in ogni parte del mondo, in Inghilterra, in Francia, in Germania, in Asia. All'epoca si preventiva circa 15 anni di ricerche per arrivare alla completa conoscenza del genoma umano. Di fatto questa previsione era un po' arrotondata per eccesso, perché si arriverà alla chiusura del progetto un po' prima. L'impegno di spesa previsto è di circa 15 miliardi di dollari, quindi un impegno importante. Il mondo dei media, il mondo del giornalismo mainstream, al quale appartengo, insomma, anch'io ricordo, inizia a occuparsi in maniera più attenta dell'evolversi di questo progetto dalla metà degli anni 90 in poi. C'è anche un elemento che forse qualcuno ricorda, che contribuisce ad accrescere la curiosità giornalistica, e cioè la presenza, da un certo punto in poi, accanto a questa cordata pubblica, insomma, chiamiamola così, progetto genoma, di un competitor privato, che è la Celera Genomics di Craig Venter. Per alcuni anni questo nome ritorna continuamente nei giornali, ritorna nelle interviste, ritorna nelle cronache. Ad un certo punto Venter annuncia, tra l'altro, di aver iniziato a brevettare alcune sequenze di genoma umano, quindi questo dà tutta una serie di speculazioni e di riflessioni anche, insomma, sulle conseguenze così di carattere etico di questo tipo di ricerca. Non so bene se, diciamo, questa competizione fra i due soggetti sia stata, a volte, insomma, un po' alimentata da arte, diciamo così, perché di fatto, insomma, in alcuni momenti, in realtà, mi pare, insomma, che, proseguendo metodologie diverse, i due attori abbiano poi collaborato per arrivare al raggiungimento del medesimo risultato. Resta il fatto che nel 2000 abbiamo questo annuncio alla Casa Bianca da parte dell'allora presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton, e dell'allora primo ministro britannico, Tony Blair, che, insomma, gran parte del lavoro è fatto, e quindi che, diciamo, una prima versione, anche se è ancora rough, diciamo così, ancora non affinata, insomma, di lettura del genoma umano è stata realizzata. Questo da parte del progetto Genoma, diciamo, quindi da parte dell'accordata istituzionale. Il progetto si chiude poi ufficialmente nel 2003, ma, insomma, diciamo, si chiude per modo di dire, perché da lì in avanti, così, si apre l'amplissimo panorama, ovviamente, delle applicazioni, con tutti gli interrogativi che questo comporta. Ora che sappiamo come è fatto il DNA umano, come utilizziamo questo sapere? Naturalmente, con riferimento, innanzitutto, alle grandi aspettative che questo aveva generato sul piano medico-sanitario. Ed è questo di cui parliamo questa sera. Nella seconda metà degli anni 2000, alcuni gruppi di ricerca negli Stati Uniti, di nuovo in particolare all'MIT di Boston e alla Berkeley University, iniziano a lavorare, sono alcuni dei team che stanno lavorando su questo, attorno al tema dell'editing genomico, che è quello di cui ci occupiamo stasera, realizzano nel 2012, se non vado errato, un primo importante step, diciamo, un primo importante risultato, ed è su questo risultato che poggia la straordinaria scoperta che è stata realizzata qui al Cibio. Perché dico questo? Solo per amore dell'erudizione o per riepilogare, peraltro in maniera sicuramente molto affrettata e molto imprecisa, insomma, un percorso che meriterebbe ben altro respiro. Non esattamente. Quello che mi preme dire, prima di lasciare la parola ad Antonio Casini, è che è una considerazione che penso sia venuta in mente a molti. abbiamo nominato alcuni dei maggiori protagonisti della ricerca scientifica a livello mondiale, MIT, Berkeley e quant'altro, anche i massimi decisori politici dell'epoca, Clinton e così via. Pensare che il piccolo Trentino, che insomma è un puntino sulla carta geografica, ad un certo punto si inserisca in questa storia, lo faccia con autorevolezza e apre nuove prospettive in questo ambito, è una cosa che naturalmente ci riempie di legittimo orgoglio. Il fatto che l'abbia fatto un piccolo team di ricercatori, qualche istante fa, la conferma, erano cinque ricercatori più qualche studente, insomma, quindi un piccolo team di ricercatori, con finanziamenti quasi esclusivamente pubblici, quindi provenienti dall'università e quindi dalla provincia autonoma di Trento, e quindi in ultima analisi da tutti i cittadini del Trentino. Finanziamenti importanti per il Trentino, ma insomma non straordinari. Si è riuscito a realizzare una scoperta come quella di cui parleremo tra qualche istante, beh, insomma è una cosa che, ripeto, ci riempie di orgoglio e ci fa pensare che così anche un piccolo territorio come il nostro può dare un contributo fondamentale al progresso scientifico e quindi, insomma, permettetemi, non è retorica, al progresso dell'umanità. Vi ringrazio ancora, lascio la parola ad Antonio Casini che è il primo firmatario del lavoro pubblicato su Nature Biotechnology, che è la rivista scientifica nella quale i risultati della ricerca del CBIO sono stati pubblicati e, come dicevo, poi tra qualche istante spero di poter dare il benvenuto anche al direttore Quattrone. Grazie ancora e mi fermo qui. Buonasera a tutti e vi ringrazio per essere qui. Chiedo già adesso scusa perché vi chiederò di aguzzare un po' la vista e guardare negli schermi alle mie spalle se siete ovviamente interessati a vedere qualche immagine che accompagna quello che dico che spero vi aiuti a capire meglio un po' i contenuti della nostra ricerca e la mia idea adesso nella prossima mezz'ora è di guidarvi un po' nel mondo di quello che è l'editing genomico e vorrei riuscire a farvi capire appunto cosa abbiamo fatto perché l'abbiamo fatto e perché pensiamo che il nostro risultato sia effettivamente importante anzi ringrazio Marco per la bellissima introduzione. Dunque io partirei appunto in realtà da dove il discorso è stato lasciato prima cioè dal genoma umano e come sapete appunto il genoma è contenuto in ogni cellula del nostro corpo e di fatto istruisce la cellula su come comportarsi all'interno dell'organismo quindi in ultima analisi il conoscere la sequenza del genoma umano è fondamentale per capire sia come funziona una cellula sia per, se andiamo in un ambito più pratico, capire dove sono eventuali errori che possono poi causare un malfunzionamento della cellula e questo chiaramente porta alla fine a una malattia, a una malattia genetica ad esempio. Quindi questo è sicuramente uno degli attori principali di questa serata quindi il nostro genoma che appunto è nel nucleo della cellula impacchettata in cromosomi ma alla fine della fiera si riduce appunto a quella struttura doppielica che è formata appunto da un insieme di basi che di fatto ci dice appunto più o meno quello che siamo. A questo punto io vorrei un attimo parlare un po' di definizioni quindi abbiamo parlato già, è stato già menzionato il termine genome editing il mio intervento verterà fondamentalmente su questo quindi mi interessa molto che per voi sia chiaro quello che vuol dire fare genome editing fare genome editing vuol dire in poche parole modificare come il termine inglese dice stesso, dice appunto modificare il genoma all'interno di una cellula sia questa una cellula del nostro corpo sia una cellula di un vegetale, di un animale, di un batterio quindi ovunque c'è del DNA io in linea di principio posso fare genome editing questo tra l'altro vi fa capire anche come questa tecnologia di cui parleremo stasera queste metodiche hanno un impatto di amplissimo respiro sulla vita di tutti i giorni perché appunto modificando il nostro genoma ad esempio possiamo curare delle malattie genetiche però modificando il genoma di una pianta, di un animale o magari di un microorganismo possiamo ad esempio ottenere delle applicazioni industriali molto interessanti e di fatto prima impossibili quindi diciamo che lo scopo del nostro studio è appunto trovare degli strumenti che ci permettano di riscrivere il DNA all'interno di una cellula ora forse molti di voi, non so, avranno letto sui giornali gli articoli che parlavano della nostra scoperta e un termine che tornava molto spesso insieme a CRISPR ad esempio era il concetto di forbice quindi ora in questa slide io vorrei farvi capire perché di fatto noi parliamo di riscrivere il genoma umano ma insieme a questo concetto avviciniamo il concetto di forbice cioè perché ci serve una forbice per riscrivere il genoma di una cellula semmai mi servirebbe una gomma, una matita, cioè qualcosa di più attivo nello scrivere perché la realtà è che la forbice serve solamente per dare il calcio d'inizio a un processo che è interno alla cellula stessa e che porta alla riscrittura del genoma vero e proprio in questa grafica qua che vedete che è un po' complicata il concetto che viene espresso è che nel momento in cui il DNA viene tagliato ad esempio dalla forbice molecolare che abbiamo creato qua al cibio la cellula si trova di fronte a un dilemma cioè ha un danno nel suo genoma, deve ripararla in qualche modo una cellula con un danno nel suo genoma non può sopravvivere perché chiaramente è come se avesse uno strappo in un tessuto che è fondamentale per la sua vita le due scelte che si trova davanti sono di fatto antitetiche da un lato può dire beh lo riparo in fretta siccome faccio le cose in fretta le faccio male quindi quello che succede è che quel gene che è stato tagliato viene di fatto eliminato dal genoma della cellula questo esempio è utile perché se ci pensate eliminando un gene dal genoma di una cellula posso capire in laboratorio a cosa serve quel gene questa cosa prima non si poteva fare è stato sicuramente un avanzamento fondamentale nell'ambito della ricerca ma se vogliamo andare anche in un contesto più applicato se voi ad esempio pensate a una situazione in cui c'è una malattia genetica che è causata da un gene malato e l'eliminare questo gene dal genoma del paziente riporta la persona a una condizione sana beh allora anche qua il gioco è fatto l'altra via che è quella che vedete rappresentata in blu è una via diciamo pulita nel senso che io ricercatore posso indurre la cellula a riparare questo danno che io ho creato in maniera molto precisa e nello stesso tempo io però posso indurla a realmente riscrivere dei pezzi del DNA come introducendo all'interno della cellula un pezzettino di DNA che funge come cerotto e si va praticamente a sostituire ad esempio un pezzo di DNA danneggiato questo è una tecnica estremamente utile ad esempio per correggere delle mutazioni quindi ad esempio il gene non è tossico il gene mutato non è tossico per la cellula ma è semplicemente non funzionante quindi io mettendo questo bel cerottone utilizzando di nuovo la mia forbice molecolare per dare inizio al processo posso di fatto di nuovo ripristinare uno stato fisiologico all'interno della cellula e far tornare tutto a funzionare come prima quindi abbiamo parlato molto di forbici e di fatto ci sono un arsenale di forbici molecolari abbastanza vasto nelle tasche dei ricercatori il problema è qua voi vedete uno schema di nuovo una grafica in cui faccio vedere tre diverse classi di forbici molecolari che sono attualmente disponibili il problema di queste forbici molecolari è che non sono democratiche nel senso che io, ricercatore, avrei io, io, Antonio Casini avrei molta difficoltà ad utilizzare queste forbici perché sono estremamente complesse dal punto di vista molecolare e per poterle programmare per colpire una specifica regione del genoma avrei necessità di tanto tempo, tanti soldi e tante persone che ci lavorano sopra quindi la verità è che questi tipi di tecnologie possono essere usate o dalle grosse aziende o da laboratori molto ricchi e con tante persone che ci lavorano dietro ciò nonostante appunto queste forbici hanno sicuramente fatto progredire quello che è il campo, qua mi dispiace veramente per la piccolezza delle scritte il campo del genomediting quella che vedete qua rappresentata è una linea del tempo che rappresenta i principali avanzamenti del campo del genomediting dovuti proprio alla scoperta delle forbici che abbiamo visto nella slide precedente questo è un campo di ricerca estremamente applicato se ci pensate quindi non è appunto una semplice speculazione o studio del vivente tanto per capire come funziona qua si sta parlando appunto di sviluppo di tecnologie per poter fare qualcosa per poter modificare il genoma di una cellula e di un organismo la cosa interessante è che a fianco a questa linea ne compare un'altra che è quella della biologia di CRISPR quindi CRISPR-Cas9 ne sentirete parlare tantissimo da questo momento in avanti sta di fatto su un binario parallelo a quello della ricerca sul genomediting sono due campi che fino a tempi recentissimi di fatto non si sono mai toccati e l'altra cosa interessante è che lo studio della biologia di CRISPR di questo sistema che è presente nei batteri è di fatto una ricerca che è nata come ricerca di base questa sì che è diciamo studio e analisi del vivente solo per capire come funziona il vivente come vedete, non so se lo vedete tanto bene, comunque dalla fine degli anni 80 i ricercatori hanno iniziato a studiare come era fatto il genoma dei batteri e si sono accorti appunto che al loro interno c'erano delle sequenze molto particolari che erano queste sequenze CRISPR e ci sono voluti in pratica 20-30 anni per riuscire a capire 20 anni diciamo, sì, per riuscire a capire effettivamente cosa facevano queste strutture all'interno dei batteri e poi c'è stato il salto chiave che vedremo dopo che è come era possibile applicare a nostro favore questo sistema che di fatto è stato inventato dalla natura per un motivo completamente diverso di fatto nel corso del tempo quello che si è scoperto e vi riassumo in pratica tutta questa linea del tempo è che questo sistema CRISPR-Cas9 altro non è che un sistema immunitario dei batteri allora già questo la trovo una scoperta fantastica se ci pensate perché va bene, possiamo anche dare per scontato che noi organismi estremamente complessi abbiamo un sistema immunitario, ci difendiamo dalle infezioni combattiamo i germi, ma pensare che anche un batterio che è fondamentalmente forse la forma di vita più semplice che potete trovare su questo pianeta abbia qualcosa di simile a un sistema immunitario beh, questo è sicuramente una scoperta rivoluzionaria e questo chiaramente deriva direttamente dal fatto che tutte le forme di vita, quindi batteri, come noi di fatto possono ammalarsi, possono essere infettate da patogeni in questo caso, come vedete in questa immagine, esistono di fatto e non so se anche questo vi può suonare nuovo dei virus che infettano e uccidono i batteri questi virus si chiamano batteriofagi che di nuovo l'etimologia tradisce la loro funzione quindi sono virus che di fatto si mangiano i batteri e quello che fanno, vedete, hanno questa forma molto particolare questa di fatto è un'immagine che riprende la loro forma reale quindi hanno questa forma un po' futuristica da navicella spaziale quello che fanno è attraccare sulla superficie del batterio e iniettare al suo interno il loro DNA genomico che poi chiaramente si replicherà quello che è stato scoperto appunto dai ricercatori è che il sistema CRISPR arriva e quello che fa praticamente impedire che l'infezione prosegua all'interno del batterio finendo appunto con la morte del batterio stesso ora vi faccio vedere questo schema che è molto complesso ma cercherò di guidarvi al suo interno semplificandolo perché diciamo che qua questa è la chiave per capire come mai questo sistema è così utile anche a diciamo noi ricercatori applicati che ci occupiamo di genome editing quindi quello che vedete qui è la cellula batterica vedete di nuovo quelle navicelle situate al suo esterno che stanno cercando di iniettare del DNA e per infettare appunto il batterio quello che vedete vediamo se si riesce a vedere ok, bene non so se riuscite a vedere il mio puntatore comunque questo qua è appunto il genoma del batterio che è al suo interno a queste regioni CRISPR che di fatto non sono altro che una fotosegnalettica dei batteri che hanno dei virus che stanno infettando questo batterio quindi questa fotosegnalettica di fatto permette al batterio di ricordarsi quali sono i patogeni che deve combattere e cosa succede? questa fotosegnalettica viene diciamo fotocopiata se volete molte volte e il nome tecnico di questa foto è RNA guida quindi è una molecola di RNA che viene passata a queste nuvolette blu che vedete che sono le proteine CAS come ad esempio CAS9 che in altri non sono che la polizia di fatto all'interno della cellula batterica che utilizzando la fotosegnalettica quindi si occupa di riconoscere e distruggere il DNA virale che viene iniettato appunto dal batteriofago nel batterio quindi di fatto quello che noi abbiamo qui è una proteina che taglia il DNA per distruggerlo e può essere di fatto programmata utilizzando quelle che noi abbiamo qua chiamato fotosegnalettiche ma che di fatto sono delle molecole di RNA il passaggio fondamentale che hanno fatto i ricercatori americani di Berkeley e dell'MIT è stato appunto capire che se io ricercatore scelgo la fotosegnalettica da dare alla mia proteina alla mia forbice molecolare di fatto posso programmarla per tagliare virtualmente una qualsiasi sequenza interno di un genoma siccome questa fotosegnalettica è molto facile da produrre in laboratorio questo RNA guida è una cosa che a noi viene molto facile da fare vedete che abbiamo reso democratico questa forbice molecolare cioè io non sto scherzando posso andare domani mattina in laboratorio con una decina di euro ordino i materiali che mi servono per programmare la mia forbice e poi ci possiamo rivedere qua fra una decina di giorni e vi posso assicurare che in un 80-90% dei casi noi abbiamo fatto con successo avremo fatto con successo un esperimento di genoma quindi saremo riusciti a tagliare il genoma di una cellula a nostro piacimento ora vi farò vedere un filmatino che praticamente vi riassume quello che ho detto nella slide precedente in maniera un pochettino più grafica così magari lo capite meglio quindi qua vedete il nostro batteriofago che inietta il suo DNA all'interno della cellula batterica questo DNA quindi potenzialmente è molto pericoloso per il batterio tuttavia questa che vedete queste due molecoline che vedete sono la nostra il nostro RNA guida quindi la fotosegnalettica che viene catturata da questa nuvola che è Cas9 la nostra forbice molecolare utilizzando quindi adesso vediamo utilizzando questa molecola di RNA Cas9 è in grado di legare e riconoscere quella cosa blu che è il DNA batterico e vedete di tagliarlo quindi in pratica in questo modo il batterio ha eliminato distruggendolo tagliandolo a pezzettini il DNA del suo invasore a questo punto arriva il passaggio fondamentale quindi la rivoluzione vera e propria quindi io prendo la stessa proteina cambio la fotosegnalettica in base alle mie necessità quindi ad esempio voglio colpire del DNA che è malato che continua una mutazione introduco la proteina avete visto all'interno di una cellula che non è più una cellula batterica ma una cellula umana e cosa succede? fondamentalmente la stessa cosa quindi la nostra proteina Cas9 andrà a cercare nel genoma della cellula umana il punto segnalato dalla nostra fotosegnalettica lo taglierà e qua vedete che succede fondamentalmente quello che vi ho scritto prima a parole questo qua è una riparazione rapida che fa errori infatti vedete che ha messo e tolto dei nucleotidi delle lettere nel DNA e ha richiuso la bella e meglio quindi in questo modo il gene è stato eliminato questa riparazione qua è invece il secondo tipo di riparazione di cui vi ho parlato quindi quella con il grande cerotto la cellula di fatto cerca di riparare come voleva fare prima ma quello che succede è che arriva questa molecola viola che è il nostro cerottone che di fatto viene utilizzata come stampo per chiudere il danno e viene il materiale genetico aggiuntivo che io ho dato alla cellula viene incorporato all'interno del suo genoma quindi in pratica quello che noi qua abbiamo fatto è correggere effettivamente il genoma di questa cellula e di nuovo vi riporto questo schema solo per ricordarvi quello che avete appena visto quindi avete questa ultima parte del filmato vi ha fondamentalmente fatto vedere di nuovo quello che succedeva in questo schema ritorniamo a questo punto qui e di fatto ho aggiunto vedete l'ultima parte di questa linea del tempo che parte nel 2012 e nel 2012 appunto queste due linee di ricerca che sono di fatto state separate si incontrano e danno origine appunto alla rivoluzione CRISPR-Cas9 quindi abbiamo finalmente un metodo per modificare il genoma di una cellula in maniera precisa facile ed economica e di fatto questo ha fatto sì che CRISPR adesso sia veramente dappertutto quindi nella terapia nelle applicazioni industriali ad esempio per migliorare le varietà di piante che vengono coltivate o per migliorare gli animali che vengono allevati quindi di fatto ha veramente una portata inimmaginabile ancora adesso questo tipo di scoperta qual è diciamo il nostro contributo appunto a questo campo del genome editing beh da un lato noi ci siamo occupati ed è quello di cui parlerò io stasera a voi di aumentare la precisione di questa forbice molecolare e vedremo perché è necessaria questa cosa e il secondo punto di cui ci stiamo occupando e ci siamo occupati è appunto il miglioramento dei sistemi per introdurre questa proteina all'interno delle cellule perché chiaramente io posso avere la forbice migliore del mondo se non riesco a portarla nel posto dove dettagliare me ne faccio esattamente niente quindi perché vi dicevo è importante pensare alla specificità diciamo della proteina Cas9 perché di fatto quello che è noto è che questa proteina è una forbice fantastica ma è una forbice a cui piace tagliare per cui taglia sicuramente il punto per cui noi l'abbiamo programmata ma è possibile che in un genoma complesso come quello umano tagli anche di fatto delle altre regioni che solamente sono simili a quella che noi vorremmo tagliare e questo se ci pensate nel momento in cui si vogliono ad esempio andare a fare terapia è un problema molto grosso perché di fatto io sto cercando di correggere un errore nel genoma della persona che voglio curare e per farlo ne metto dentro altri 10 quindi ovvio che ci sono tutta una serie di accorgimenti per evitare questo problema però se si riesce ad avere una certezza ancora più alta sicuramente è vantaggioso questo è uno schema quindi non è appunto come vedete è un cartoon non è niente di reale però questo problema è reale perché di fatto questo che vi faccio vedere qui adesso e che si vede forse un pochettino poco sono dati sono dati veri questi che vedete allineati con questi bastoncini sono i cromosomi presenti nel nostro genoma e questo è uno studio fatto in un gruppo americano che si è interrogato su effettivamente quanto specifica fosse precisa fosse Cas9 queste sono diciamo che queste due immagini rappresentano due programmazioni diverse per il taglio da parte di Cas9 e mostrano due situazioni diametralmente opposte quindi si può essere fortunati e bravi e programmare la proteina per colpire un punto nel genoma che se volete è unico quindi di fatto non si fanno errori ed è il caso appunto sulla sinistra oppure si può essere molto sfortunati e programmare la proteina per colpire un punto nel genoma che si viene tagliato però insieme a questo semplicemente ne facciamo un trito misto di cromosomi quindi chiaramente non va molto bene nel momento in cui si voglia utilizzare ad esempio in ambito clinico questo problema è ben presente nella comunità scientifica e di fatto prima di noi altri gruppi di ricerca hanno proposto delle soluzioni e come vedete questi gruppi di ricerca sono pezzi da 90 perché appunto abbiamo già citato l'MIT e Berkeley abbiamo aggiunto qui anche Harvard e quello che questi gruppi hanno fatto è dire beh questa che vedete qui rappresentata è effettivamente la struttura della proteina Cas9 quindi è come questa proteina è fatta loro hanno detto beh io guardo questa struttura e da qui posso ad esempio prevedere che modificando alcuni punti della proteina otterrò qualcosa di più specifico ed effettivamente hanno pubblicato dei lavori anche molto bene dimostrando questa cosa tuttavia noi e noi saremmo questi così vi presento anche il gruppo di lavoro e beh ci sono io poi chiaramente appunto ci sono sicuramente altri giovani ricercatori la professoressa Ceresetto e in realtà per fare il lavoro portato alla scoperta di Evocas9 abbiamo collaborato con altri gruppi all'interno del Cibio che ci hanno aiutato appunto a completare quelle parti che noi da soli non saremmo riusciti a fare e comunque quello che noi noi quindi questo team ha fatto è diciamo sommettere su un approccio che se volete è più rischioso ma se funziona dà sicuramente delle risposte più performanti se volete in termini di aumento della precisione di questa di questa proteina quello che noi abbiamo fatto è in pratica chiedere aiuto a un microorganismo che sicuramente tutti voi conoscete che è il lievito quindi questo è il lievito di birra quindi quello che usate per fare la birra o per fare la pizza se fate la pizza nei weekend magari questo esserino di fatto è stato modificato in laboratorio geneticamente per aiutarci a selezionare delle varianti quindi dei mutanti di Cas9 che avessero appunto una alta precisione quindi una precisione comunque molto più alta di quella della proteina naturale quindi quella che si trova nei batteri che funziona appunto come il loro sistema immunitario ed effettivamente il lievito ci ha aiutato molto perché dopo un po' di lavoro e di analisi abbiamo effettivamente tirato fuori quella che è Evocas9 e che è l'oggetto appunto dell'articolo che abbiamo menzionato prima di fatto com'è che funzionava adesso vi do solo un assaggio di quello che noi vedevamo ogni giorno in laboratorio ed è questo questo lievito è stato modificato in laboratorio per comportarsi diciamo in maniera diversa a seconda della specificità quindi di quanto precisa era la diciamo variante quindi il mutante di Cas9 che noi avevamo introdotto al suo interno quindi era una specie di cartina tornasole noi prendevamo i nostri lieviti prendevamo dei mutanti di Cas9 che abbiamo generato in maniera casuale quindi semplicemente abbiamo introdotto delle mutazioni a caso nella sequenza che codifica per questa proteina l'abbiamo data al lievito e abbiamo aspettato che il lievito ci desse una risposta com'è che il lievito ci poteva dare una risposta semplicemente cambiando colore quindi quella che voi vedete qui è una piastra di lievito quindi non è un'immagine al microscopio questo oggetto è grande più o meno come la mia mano quindi io facevo l'esperimento la mattina si arrivava in laboratorio trovavo all'interno degli incubatori quindi queste cose e semplicemente guardando il colore di questi gruppi di cellule che ci crescono sopra questi pallini che voi vedete sapevo dire se avevo effettivamente migliorato o meno la precisione della mia proteina ed in particolare appunto il fatto che la colonia così si chiama fosse rossa mi diceva beh lì effettivamente la Cas9 è stata specifica quindi è un buon candidato devo analizzarlo se invece la colonia diventava bianca allora lì non ero tanto contento del risultato morale della favola abbiamo ottenuto questa proteina che è appunto Evo Cas9 e di fatto è identica a Cas9 se non per quattro punti quattro amminoacidi che sono i mattoncini di cui è fatta una proteina che il lievito ci ha suggerito di cambiare quindi facendo questi quattro cambiamenti abbiamo trasformato qualcosa di altamente impreciso in qualcosa di estremamente preciso e per darvi un'idea di questa precisione vi faccio vedere qualche dato ma molto rapidamente quindi questo che vedete molto male è un elenco di praticamente indirizzi nel genoma che vengono tagliati da Cas9 quando questa viene programmata per colpire uno specifico punto nel genoma quindi idealmente se la proteina è veramente specifica questa lista di indirizzi mi aspetto abbia un solo indirizzo che è quello per questa programmata da andare a tagliare quello che voi vedete è che però Cas9 quella naturale quindi non Evo Cas9 Cas9 ha una lista di indirizzi piuttosto lunga che vuol dire che non è che sta andando tanto bene cioè io taglio dove voglio ed è qua in mezzo agli altri indirizzi ma taglio anche un pochettino a caso Evo Cas9 ha risolto completamente questo problema di fatto vedete che la sua lista di indirizzi il suo libro di indirizzi ha un indirizzo solo che è quello del sito specifico abbiamo fatto chiaramente anche altre analisi e vi riassumo tutta la storia dicendo che appunto questa proteina questa nostra Evo Cas9 è specifica fondamentalmente al 99% quindi elimina il 99% di tagli sbagliati nel genoma il che se ci pensate è ottimo perché vuol dire che posso andare con abbastanza sicurezza all'interno di un paziente senza temere di fargli del male nel momento in cui sto magari cercando di curare una malattia genetica e appunto a cosa serve tutta questa specificità voi potreste chiedermi serve ad esempio a distinguere delle gli alleli diciamo di un genere adesso vi spiego cosa sono gli alleli quindi questi che vedete sono due cromosomi un cromosoma viene ereditato da nostra madre e uno da nostro padre e fin qua direi che ci siamo tutti può essere chiaramente che in alcuni casi uno di questi e ogni cromosoma chiaramente contiene una copia di ogni nostro gene quindi vuol dire che noi in totale in ogni nostra cellula abbiamo due copie di ogni gene può essere a volte che una di queste due copie sia difettosa e come vi dicevo prima sia praticamente tossica per la cellula se volete ecco e può essere appunto che la differenza tra la copia tossica e la copia non tossica sia idealmente una singola lettera quindi noi vogliamo avere un paio di forbici ad esempio che colpiscano la copia tossica eliminandola ed eliminando anche quindi la tossicità legata ad essa ma che risparmino la copia sana perché senza copia sana saremo appunto a capo in pratica quindi ci troviamo dall'avere due copie di un gene ad avere zero copie che equivale ad avere la copia tossica io direi quindi quello che noi pensiamo è che Evocas9 e abbiamo anche in realtà dei primi dati che ci fanno vedere questo sia ad esempio molto importante nei casi come questo quindi in cui io ho due copie molto simili ad esempio di uno stesso gene e voglio selettivamente tagliarne solo una delle due con le varianti quindi con i mutanti ad alta specificità che vi ho fatto vedere prima di MIT Berkeley e Harvard questo non si può fare quindi di nuovo diciamo che il nostro approccio era magari un pochettino più rischioso ma sicuramente ha pagato più del loro e questo è sicuramente una grande soddisfazione ora concludo rendendo vorrei rendere un attimino più concreta questa cosa che vi ho detto perché appunto a parole può sembrare magari facile dire vabbè io distingo la coppia sana la coppia malata una singola lettera di differenza però di fatto se vogliamo fare un paragone come se io vi dicessi e tra l'altro per una volta gli schermi mi aiutano di dirmi qual è a colpo d'occhio la differenza tra queste due immagini ovviamente è molto difficile da trovare su questo schermo soprattutto ma di fatto è qui e quindi è questa piccola differenza che la nostra proteina riesce a vedere non quindi grosse differenze ed è questo il grande vantaggio a questo punto voi potreste chiedermi appunto cosa dopo cosa vi rimane da fare e diciamo per rispondervi se volete la prendo un po' alla larga e vi vorrei far vedere due dati che trovo molto interessanti intanto come sapete come magari vi hanno anche già detto la ricerca costa nel senso che bisogna pagare appunto persone noi ricercatori bisogna pagare strumentazioni reagenti e il primo dato che vi faccio vedere è quanto lo Stato italiano investe in ricerca confrontato appunto con altri paesi del mondo e come vedete non è molto lusinghiera la situazione e siamo diciamo davanti solamente alla Spagna e investiamo un pochettino più del 1% del nostro PIL in ricerca il Trantino in realtà fa un po' eccezione in questo se devo essere onesto ma appunto è chiaro che il volume di investimento che il Trantino può generare insomma va proporzionato alla dimensione del territorio chiaramente il secondo punto che volevo farvi vedere era questo quindi se non nello Stato allora magari i privati ci possono aiutare gli investimenti privati quindi industrie fondamentalmente anche qui vedete che l'Italia non se la passa molto bene nel senso che a livello europeo siamo davanti solamente diciamo fondamentalmente paesi dell'est Europa e siamo molto distanti da paesi come Regno Unito Germania e Francia quindi è chiaro che tutto questo per dirvi che c'è una diciamo cronica mancanza di fondi nella ricerca e quindi noi magari avremmo anche tante idee ma di fatto queste idee senza un adeguato supporto non si possono non si possono realizzare ed è per questo che l'università in realtà ha pensato di rivolgersi direttamente a voi a voi a noi noi cittadini diciamo e facendovi diventare di fatto attori principali nel finanziamento della ricerca e legato ad esempio al nostro lavoro è stata lanciata questa campagna di crowdfunding e trovate praticamente lì in alto il link che vi porterà a questa pagina in cui potete chiaramente donare quello che ritenete giusto per supportare di fatto l'avanzamento della nostra ricerca e il sito è fatto molto bene contiene tutti i dettagli di fatto le idee non ci mancano nel senso che pensiamo con queste donazioni di fatto di portare avanti il nostro progetto su due linee principali quindi da un lato andare avanti con l'ottimizzazione delle tecnologie diciamo di genomating per renderlo sempre più preciso ed efficiente utilizzando quindi ottimizzando i sistemi di introduzione del correttore genomico all'interno della cellula quello che vi dicevo prima diciamo che manca ancora molto lavoro da fare e vorremmo appunto andare avanti su questo e poi potenziare appunto quelle che sono le tecniche di sostituzione genica ovvero per capirci potenziare il cerottone che avete visto prima cioè attualmente è ancora molto poco efficiente e quindi c'è veramente molta necessità di migliorare anche questo aspetto la seconda piattaforma su cui vogliamo diciamo muoverci è diciamo più applicativa dal punto di vista terapeutico e da là un primo obiettivo è quello appunto di diciamo evolvere delle varianti di proteine che sono mutate in patologie genetiche perché queste diciamo neutralizzino l'effetto dannoso della mutazione che contengono mi rendo conto che sia un po' complesso ma sul sito trovate magari più dettagli e in ultimo diciamo esistono dei modi con cui si può potenziare ad esempio la funzione di un gene senza correggerne la sequenza quindi ad esempio anche questo è un campo che è poco studiato ma su cui si può fare molto cioè nel senso invece di correggere un gene malato semplicemente si cerca di potenziare l'attività del gene sano rimanente e quindi questo teoricamente dovrebbe ristabilire una situazione di diciamo fisiologica all'interno del paziente e nel sito poi è scritto tutto molto bene comunque noi con l'università abbiamo diciamo pensato di chiedere il supporto della cittadinanza con donazioni libere per pagare fondamentalmente il costo di un stipendio di un ricercatore per un anno più un po' di materiali che ci permettano appunto di fondamentalmente lavorare su queste tematiche sicuramente sono interessanti spero insomma di avervi dato gli strumenti per anche voi stessi capire che sono interessanti nell'ottica appunto di migliorare questa tecnologia che di fatto è rivoluzionaria e probabilmente rappresenterà il futuro di tutta una fetta della medicina moderna ecco io vi ringrazio grazie e saluto nel frattempo il professor Quattrone che come avevo annunciato ci ha raggiunti allora abbiamo un po' fatto un quadro generale di questa ricerca e ora farei un passo indietro per tornare a una cosa che dicevo all'inizio abbiamo visto che insomma la ricerca nell'ambito del genoma ha avuto come protagonisti alcuni dei più avanzati laboratori di ricerca a livello mondiale abbiamo seduto Harvard, MIT e quant'altro ad un certo punto si inserisce anche il Trentino con questo passaggio che davvero segna un nuovo inizio insomma mi pare pur conoscendo l'eccellenza scientifica insomma che è venuta crescendo insomma in questo territorio negli ultimi 30-40 anni insomma si rimane comunque colpiti insomma dal risultato raggiunto allora la prima domanda che mi viene da dove nasce tutto questo ci dice qualcosa sul CBIO come è iniziato come sta lavorando e quali sono un po' le prospettive insomma sì questo insomma mi imbarazza anche un po' perché devo parlare bene delle cose che io faccio e che facciamo come ricercatori però approfitto della domanda per dire due cose proprio della filosofia che abbiamo seguito in questi anni io sono arrivato in Trentino ad aprile del 2006 quindi sono un po' di anni ormai che lavoriamo su questo progetto abbiamo avuto un forte sostegno della provincia questo va detto un sostegno che non sarebbe stato uguale in qualità e in quantità in altri contesti in Italia quindi questo progetto poteva essere realizzato in particolare in Trentino insomma non è piageria è la verità ha avuto caratteristiche un po' particolari abbiamo voluto fare qualcosa che non era ancora stato fatto in Italia e soprattutto al di fuori dell'accademismo ancora un po' imperante in Italia i cercatori che lavorano i miei colleghi i professori che lavorano al al Cibio sono 40 adesso e ci sono poi i bravi ottimi studenti di dottorato Antonio fino a pochissimo fare uno studenti di dottorato e poi dei postdoc cioè quelli che hanno già superato il dottorato e si avviano verso la carriera del ricercatore in tutto sono 270 persone compresi gli studenti 350 quindi anche la mole è ingente ma ci sono alcuni principi uno è eliminare le gerarchie accademiche cioè fare in modo che non ci sia il professore capo diciamo il barone il sottoprofessore il sottosottoprofessore come durante il feodalesimo queste cose che io ho vissuto insomma non è banale per il sistema universitario italiano no bisogna cominciare con uno che non ha nulla da restituire a nessun altro se no non funziona se chi parte ha dei debiti allora è finita no da noi non è successo questo poi il nome centro di biologia integrata abbiamo messo insieme expertise differenti totalmente differenti non ci siamo preoccupati in nessun modo di quali fossero gli argomenti di studio dei ricercatori ci siamo preoccupati solo che fossero bravi e questo ha prodotto il caso di Evocas9 ha prodotto la combinazione dei saperi il laboratorio di Anna Cereseto in cui Antonio ha lavorato Antonio ha lavorato prima di questo progetto ha un altro progetto molto ambizioso è un laboratorio che lavorava sul virus dell'AIDS quindi un laboratorio di virologia coloro i quali hanno collaborato portando delle tecnologie portando per esempio la capacità di usare il lievito e una tecnologia genomica che permetteva di scandire il genoma intero per capire dove erano i siti cosiddetti punto off target quelli sbagliati sono due ricercatori che lavorano sul cancro Antonio Gianluca e i loro colleghi hanno potuto accedere a delle facility a delle strutture tecnologiche che abbiamo fatto ciascuna delle quale è specializzata in un sapere tecnico preciso ecco queste cose difficili di trovarle in Italia in un contesto accademico almeno forse più un po' al di fuori e insomma devo dire i risultati sono per me anche incredibili questo è incredibile veramente in passato abbiamo avuto altri articoli importanti altre ricerche importanti abbiamo 100 articoli all'anno che escono insomma la morale è che basta mettere in grado basta identificare le persone per il loro valore e non per altri parametri e metterle in grado di lavorare con delle strutture con una facilitazione complessiva e in Italia possiamo fare delle cose straordinarie vi faccio soltanto una cifra il Cibio riceve un milione e mezzo all'anno dall'università per portare avanti le sue ricerche per gestire le macchine le tante macchine che abbiamo per manutenerle nel tempo il Broad Institute dove hanno fatto la variante hanno fatto molte altre cose al Broad Institute all'MIT insomma dove hanno fatto la variante che ha perso diciamo nella gara delle varianti che ha perso riceve 400 milioni di dollari all'anno per le stesse cose 400 contro 1,5 quindi capite come insomma come siamo costretti anche un po' perché la competizione è mondiale non è che nessuno si preoccupa nelle riviste che pubblicano che ricevono gli articoli da noi e da loro se loro hanno 400 milioni di base noi invece ne abbiamo 1,5 è una gara in cui partiamo non dico svantaggiati è un efoemismo dire svantaggiati e dobbiamo inventarci le cose più italiane possibili fantasiose possibili per comunque riuscire a fare qualcosa di significativo penso di interpretare un po' il desiderio di conoscenza di tutti tornerei un attimo sulla questione delle applicazioni quello che possiamo attenderci da questo tipo di tecnica da questo tipo di scoperta insomma questa forbice ad esempio il Trentino insomma ha sedimentato una serie di competenze nell'ambito della lotta ai tumori nel corso dei decenni ricordo dalla famosa bomba al cobalto di cui si parla negli anni 60 ho visto in sala il dottor Nollo per esempio prima anche lì c'erano delle linee di ricerca su questo eccetera che cosa possiamo attenderci e qual è il lasso di tempo ragionevole insomma in cui possiamo pensare di vedere delle applicazioni di questa se Antonio puoi tornare all'immagine quella il cartoon del CRISPR scritto con i vari organismi allora CRISPR è un approccio universale l'ambito medico è l'ambito che a noi interessa ma non è l'unico ambito e forse dal punto di vista anche tra virgolette commerciale della mole di denaro che muoverà non è nemmeno il più importante vedete in questa immagine che è scherzosa ci sono un po' di organi intanto l'enzima che è la R che lo sia l'enzima a occhio appunto la CRISPR poi c'è un'ape perché c'è un progetto che sta cercando sapete che le api sono sotto a rischio a rischio di estinzione per una serie di motivi una congiuntura può far sì che le api siano in serio pericolo c'è un progetto che è volto a modificare il genoma delle api in modo tale da rendere resistenti agli insulti che le stanno distruggendo per il cambiamento climatico ancora non è chiarissimo perché ci sono una serie di cose concomitanti uno è il cambiamento climatico altri sono delle tossine che vengono lasciate nell'ambiente pollution insomma di fatto però stanno la numerosità delle api sta andando così e non sarebbe bello se si estinguessero quel maialino indica l'applicazione in ambito zootecnico ci sono già diverse non esperimenti diverse modificazioni realizzate in ambito zootecnico per esempio un maiale che ha la muscolatura più maggiore insomma quindi la parte magra della carne maggiore fatto modificando con CRISPR un singolo gene quello invece della spiga indica l'applicazione in ambito agricolo alla fondazione MAC qui dei gruppi due gruppi almeno stanno lavorando alacremente per realizzare alcune queste applicazioni anche perché CRISPR rispetto agli OGM è un'altra cosa i corpi regolatori stanno sdoganando diciamo questo approccio anche perché una volta che l'avete usato su una pianta diventa quasi impossibile capire se questo è stato fatto con CRISPR oppure con degli incroci convenzionali proprio non ci sono prove tracce cicatrici sul DNA cosa che invece c'è con gli OGM quindi la Monsanto e la DuPont hanno insieme 150 brevetti già per modificare le piante a scopo alimentare per migliorare le piante a scopo alimentare il mammut è una forse una provocazione è fatta da un grande scienziato che è uno dei protagonisti della storia di CRISPR anche se è stato stranamente messo un po' da parte il suo ruolo si chiama George Harch lavora all'MIT anche lui e lui ha avviato un progetto che vuole far risorgere il mammut dal cinema alla realtà insomma perché abbiamo visto qualcosa del genere la Jurassic Park al mammut che è più facile dei dinosauri forse perché basta cambiare sei geni sull'elefante indiano e si torna al mammut non so se mai verrà fatto questo perché poi ci sono aspetti etici l'ultimo non lo so cos'è l'ultimo ah il pomodoro sempre piante ci sono aspetti etici anche che sono importanti che sarebbe stata la domanda successiva ma prima lascio finire insomma questa è un'idea di quello che si può fare all'esterno delle patologie in ambito di malattie umane che è quello che veramente ci interessa poi alla fine almeno a noi ci sono 6.000 malattie genetiche che coprono il 15% della patogenesi complessiva nel mondo e un cospicuo numero di queste patologie sarà aggredibile da CRISPR ci sono molti problemi ancora molti ostacoli da superare fa qualche nome qualche esempio di qualcuna di queste posso dire i primi due tra gli clinici che verranno realizzati tra l'altro stiamo discutendo con chi lo realizzerà possibilità anche di usare Evocas il primo è sulla beta-talassemia che è una malattia importante è una malattia diffusa nel nostro paese in particolare in Sardegna è una malattia che ha almeno 5.000 malati in Italia ed è più facile tra virgolette si fa per dire perché niente è facile in questo campo ma è più aggredibile perché si lavora sul sangue si lavora noi diciamo ex vivo cioè si può prendere il sangue dall'organismo fare la circolazione extracorporea modificare le cellule del sangue e rimettere nell'organismo quindi è facile diciamo più facile che non dovendo immettere il vettore qualunque cosa sia per portare CRISPR Cas9 direttamente nell'organismo si tira fuori il tessuto che è malato cioè il sangue in questo caso e l'altra è sempre una malattia ematologica è l'anemia falciforme molto simile alla talassemia stesso gene coinvolto i primi due studi clinici partiranno fra qualche mese all'università di Stanford e in parallelo a una delle aziende che è bostoniana sempre che ha i brevetti per questa tecnologia e che quindi avvierà ce ne sono molti altri nel 2019 almeno una quindicina già previsti quindi questo nelle malattie ecco per i tumori dico solo i tumori i tumori sono una cosa molto difficile da affrontare anche con CRISPR perché CRISPR è in grado di fare in particolare Evocast è in grado di fare delle modificazioni mirate i tumori sono malattie genetiche sempre ma sono alterate in una gran quantità di siti nel genoma un po' come quella immagine che ha fatto vedere Antonio delle tagliatelle che fa la normale Cas9 ecco un tumore è una cosa del genere è un'alterazione globale del genoma non c'è un punto solo in cui tagliare per essere banale purtroppo non c'è un punto solo come malattie genetiche sono tanti punti quindi tanti andrebbero corretti e quello è difficile pensarlo però si può agire invece sui linfociti e sulle cellule dell'immunità che devono combattere i tumori rendendole più intelligenti e questo lo si sta facendo quindi i tumori sono affrontati soltanto per ora sul versante dell'immunoterapia cosiddetta poi arriviamo anche ai temi etici che sono molto complessi insomma sono anche dibattuti prima però volevo chiedere qualcosa riguardo abbiamo parlato dei privati e di alcune aziende che si stanno muovendo allora c'è stata una reazione da parte del mercato diciamo così insomma cioè dell'insieme delle aziende biotecnologiche alla vostra scoperta ci sono stati degli approcci e naturalmente da Trentino chiedo anche è pensabile lo sviluppo c'è già qualcosa no? ma insomma è pensabile lo sviluppo il consolidamento di un una consistente piattaforma insomma di industrie di imprese che lavorino in quest'ambito in Trentino insomma ecco partendo dalla vostra scoperta in qualche modo la ricerca di Anna e del collaboratore Antonio in primis ha un po' aperto un basso di Pandora in questo perché abbiamo altri progetti anche di trasferimento tecnologico questo è un progetto di trasferimento tecnologico importante Antonio probabilmente assumerà un ruolo cruciale in questo trasferimento e abbiamo avuto con nostra sorpresa una gran quantità di interazioni di proprio di investitori interessati a venire in Trentino a portare dei soldi in Trentino che non è tanto storicamente che lo sappia almeno una cosa che è successa molto spesso in Trentino non prendersi il brevetto e andare fuori e andare fuori venire a alimentare una start up un'attività che ci vuole assolutamente non possiamo pensare di non passare attraverso quella fase qui sì stiamo discutendo anche troppo forse facciamo altro per certi versi ma insomma è importante farlo in questa fase Antonio sta imparando anche i suoi colleghi stanno imparando un sacco di termini nuovi di un mondo nuovo quello della finanza biotecnologica ma c'è un interesse estremo in generale per il biotech noi abbiamo altri progetti confidiamo di riportare sul territorio in questo modo anche una ricchezza insomma che è stata quella che ci è stata data dieci anni fa all'avvio del progetto ovviamente parliamo di applicazioni quindi di cose che possono arrivare sul mercato e qui insomma i temi etici diventano particolarmente importanti insomma se riguarda il concetto di limite fin dove ci si può spingere con questo tipo di attività dove è giusto è lecito è etico appunto fermarsi e anche magari quali sono gli strumenti che qui ma anche altrove insomma che si possono mettere in campo per orientare anche il lavoro del privato che un domani per esempio nominava la Monsanto insomma è uno di quei colossi dell'agroalimentare che spesso viene messo sotto accusa insomma per insomma le conseguenze negative che la diffusione delle sue sementi comporta ad esempio in termini di impoverimento della biodiversità insomma ecco della progressiva sparizione di specie autoctone che semplicemente vengono buttate fuori mercato insomma oppure brevettazione di varietà vegetali che popolazioni che non hanno molti strumenti per difendersi diciamo utilizzavano per secoli e che vengono in qualche modo espropriate attraverso la brevettazione eccetera e si potrebbe andare avanti molto a lungo come cosa pensate di questo il Jennifer Doudna la principale possiamo dire scopritrice di questa di questa piattaforma di questo diciamo metodo di sistema immunitario dei batteri che poi è trasferito nell'umano e fa queste cose straordinarie dedica la metà del suo tempo adesso ad andare in giro per conferenze etiche di etica di etica di riflessione è una scienziata di grandissimo valore sta sprecando tra virgolette non sta sprecando in realtà ma sta dedicando la metà del tempo e spero solo per questo dovrebbe avere il Nobel la scoperta già merita tre Nobel secondo me non è per la pace oltre che quello per la medicina perché tutti ci rendiamo conto della della portata etica di questo tipo di fare una una specie di 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 una nuova specie da virgolette una nuova razza di maiale più muscoloso per esempio è una cosa etica per anni l'abbiamo fatto l'abbiamo fatto allora io credo bisogna rispondere in due modi a questa domanda io sono il primo a preoccuparmi delle appellazioni improprie della del genome editing ma non dobbiamo dimenticare che abbiamo cominciato a fare genome editing 12.000 anni fa 12.000 anni fa è nata la civiltà umana siamo entrati dal perolitico nel neolitico prima eravamo cacciatori raccoglietori impiegavamo sei ore del nostro tempo a cercare cibo ogni tanto riuscivamo a cacciare qualche grande animale ma era raro più che altro trovavamo insetti trovavamo bacche in giro e mangiavamo quelle sei ore del nostro tempo anche a volte otto ore dopodiché non c'è tempo per nient'altro per riflettere su nulla per costruire nulla con leolitico si è cominciato a fare qualcosa di diverso grazie a cosa? grazie agli incroci selezionati degli animali e delle piante cioè grazie al genome editing perché quello è genome editing fatto non in modo conscio consapevole informato come stiamo facendo adesso fatto in modo intuitivo trial and error come si dice ma riuscire a trovare una variante di grano che non disperde i semi in giro perché quella è stata la prima invenzione dell'agricoltura e che li tiene nella spiga perché poi deve raccoglierli è genome editing è avvenuto 12.000 anni fa nella mezzaluna fertile e poi è venuto in altri posti indipendenti nel mondo con altre specie il riso quindi stesso per allevamento degli animali in croce selezionati senza dubbio è nata la civiltà umana in quel modo adesso 12.000 anni dopo siamo in grado di fare la stessa cosa in modo estremamente preciso estremamente diretto e come lei diceva è molto pericoloso può essere molto pericoloso la Monsanto può fare cose terribili ma noi possiamo fare cose terribili con qualunque cosa la tecnologia ci dà in mano abbiamo la bomba H vi ricordate abbiamo la bomba H abbiamo la bomba atomica abbiamo testate nucleari ovunque possiamo fare cose terribili con qualunque strumento la tecnologia ci dia se non ci sono regole e se non c'è buon senso le faccio un'ultima domanda poi magari lascio la parola anche al pubblico se vogliono sullo stato dei rapporti di collaborazione fra le varie realtà della ricerca perché ad esempio mi viene in mente FEM ha fatto deconificazione del genoma di alcune specie vegetali e quant'altro o anche con gli altri dipartimenti dell'università eccetera come come vi muovete insomma su questo terreno abbiamo qualche dubbio che EvoCas9 sia utile per le piante perché nelle piante il background di alterazioni che la Cas9 normale realizza possono essere eliminate con degli incroci abbastanza rapidamente quindi non credo che ci sia un vantaggio particolare di queste ricerche tantomeno di quelle per il delivery cioè per portare l'enzima nel posto giusto perché nelle piante funziona in modo diverso credo che bisognerebbe parlare un po' di più forse in effetti sì non lo stiamo facendo molto ma i cercatori di frame sono molto bravi e stanno facendo cose importanti la ringrazio allora a questo punto vi lascerei la parola se ci sono domande richieste di chiarimento forse c'è anche un microfono in sala mi pare per cui là mi sembra innanzitutto grazie perché non è sempre non succede tutti i giorni di poter parlare direttamente con i ricercatori io ho solo una domanda qual è stata la reazione dei cittadini alla notizia di questa scoperta ha avuto una ribaltà nazionale internazionale ma immagino che chi a casa ha qualcuno malato si sia fatta una domanda e magari ci sia accesa una speranza sì effettivamente è vero nel senso che soprattutto le settimane dopo la pubblicazione dello studio e il fatto che si è rimbalzato poi su tutti i giornali nazionali soprattutto ha portato effettivamente un grossissimo flusso di contatti quindi email telefonate di persone che chiedevano informazioni fondamentalmente sulla tecnologia su quanto fosse realmente applicabile per chiaramente la loro patologia specifica quindi sicuramente c'è stato un grossissimo interesse soprattutto appunto tra i pazienti e questo da un lato fa piacere perché chiaramente vuol dire che veramente siamo riusciti ad uscire una volta tanto dal laboratorio siamo riusciti ad arrivare anche insomma tra i cittadini che trovo che sia giusto sapere che voi sappiate quello che facciamo e insomma i frutti appunto delle nostre ricerche dall'altro c'era un po' di rammarico perché chiaramente non noi io soprattutto non sono cioè non siamo ricercati di fatto ci troviamo davanti a problematiche a cui probabilmente non sapevamo affrontare in maniera corretta dal punto di vista di informazione e soprattutto il secondo punto è che chiaramente questa tecnologia molto giovane perché parliamo del 2012 molto promettente e su questo probabilmente anche Alessandro potete vedere cose però appunto adesso iniziano i primi trial clinici quindi sperimentazioni su pazienti su un gruppo di patologie che alla fine è abbastanza distretto ovviamente per cui questo ci rimane un po' di dispiacere di non poter dare feedback più positivi alle richieste ecco si aggiungo che la quantità di email il giorno dopo della scoperta centraline sono saltate dall'università per le telefonate la quantità di email che abbiamo ricevuto è dell'ordine delle diverse centinaia forse più di mille mille e cinquecenti continuano ad arrivare email con storie strazianti questo è insomma l'aspetto un po' doloroso anche di questo tipo di pubblicità che però è stata data in modo del tutto corretto cioè non c'era nulla nei nostri comunicati anche negli articoli che sono usciti che fosse al di fuori della ortodossia scientifica di quello che effettivamente è stato realizzato una cosa bella è stata anche l'interesse da parte di associazioni io sono mi scuso di essere arrivato in ritardo ma tornavo proprio da una di queste associazioni da un congresso che c'è stato a Roma sulla tassia un spettro di patologie importanti di mancata coordinazione motoria abbiamo preso contatto con associazioni cosa che io un pochino già avevo fatto per altri versi ma non non i miei colleghi ed è un bel modo di insomma noi non siamo il front line davanti al paziente sta il medico noi siamo quelli dietro le quinte però è molto importante quello che facciamo senza quello che noi facciamo il medico non è in grado di produrre nulla di nuovo per il paziente e quindi il contatto diretto con i pazienti è una cosa che può vivificare molto il lavoro anche il nostro lavoro da dietro le quinte sempre volevo semplicemente fare una domanda tecnica diciamo così questa riparazione avviene diciamo come prevenzione genitori che hanno portatori di geni con dei problemi o si può addirittura intervenire anche all'interno del feto già allora la prevenzione non è un aspetto che al momento è contemplato la prevenzione dovrebbe essere nelle malattie genetiche la diagnosi preimpianto la diagnosi dell'embrione prima facendo appunto questo che non è consentito in alcuni paesi lo è in altri l'analisi dell'embrione prima appunto dell'impianto di nuovo nell'utero materno ci sono discussioni su questo proprio etiche intervenire sulla linea germinale cioè intervenire sui portatori sani della malattia eliminando quella variante alterata che potrebbe produrre malattia nei figli su questo c'è una discussione ancora una volta da Giorgiar c'è uno dei più sostenitori del sì a questa possibilità ma non è una possibilità immediata abbastanza lontano nel tempo perché è abbastanza difficile fare una cosa del genere un giorno forse sarà possibile e quando sarà possibile parleremo di eradicazione delle malattie genetiche eradicazione eliminazione dall'umanità delle malattie genetiche buonasera a tutti non so se userò bene la terminologia per spiegarmi ma ho letto alcuni articoli quando avete fatto la scoperta un po' sui giornali mi chiedevo questo quando viene fatto un trapianto si toglie un pezzo e si mette un pezzo però quando poi la persona alla fine muore muore interamente mentre voi andate un po' invece a fare dei tagli sul DNA se ho capito bene che in qualche modo poi possono essere anche trasmessi quindi se questa persona poi è un adulto o ha dei figli questo tipo di intervento che fate è trasmissibile perché mi incuriosiva la faccenda del taglio mentre la capisco bene sull'organo che viene trapiantato ecco mi è più difficile invece su questo grazie la risposta l'ha un po' data Alessandra adesso comunque la risposta è no non è trasmissibile proprio per questo motivo qui che diceva Alessandra prima l'unico modo per cui la modifica sia trasmissibile che interessi gametti quindi gli spermatozoi o gli ovuli della persona modificata quello che di fatto tutti questi protocolli sperimentali che partiranno in questi anni mirano a fare non è modificare l'intero corpo della persona malata ma è chiaramente modificare diciamo le cellule dell'organo che presenta i sintomi della malattia quindi se una persona ha l'anemia falciforme ad esempio quello che viene curato di fatto è il sangue di questa persona i suoi gametti rimarranno con la mutazione che causa l'anemia falciforme ma chiaramente nel paziente avere la mutazione dei gametti non ha nessun effetto è chiaro che se questa persona avrà dei figli c'è una possibilità che la trasmetta l'unico modo appunto quello che diceva Alessandro in realtà attualmente l'unico modo in cui uno magari può pensare di riuscire a modificare interamente un individuo è modificandolo a livello di embrione però appunto su questo c'è grosso dibattito e in realtà per il momento sta vincendo la linea che preferisce andare prudentemente in questo filone anche perché lì appunto come dice giustamente lei tutto ciò che viene modificato viene ereditato per cui finché non si conosce molto bene quello che si è in mano queste forbici forse appunto c'è la linea prevalente che sia preferibile aspettare di conoscere la tecnologia che comunque appunto ha 5-6 anni per cui insomma è molto giovane c'è tempo anche per quello intanto volevo ringraziarvi io sono faccio il primo anno a biotecnologie quindi cioè in realtà quello che vorrei fare nella vita è quello che sta facendo il dottor Casini perciò sono molto contenta di essere qui a sentirlo parlare e allora volevo chiedere io so che far entrare una proteina in una cellula è una cosa veramente tanto difficile con Cas9 in questo preciso momento quali strumenti ci sono per farlo? Beh allora di fatto tu hai due scelte fondamentalmente puoi scegliere appunto di far entrare la proteina o puoi scegliere di far entrare il DNA diciamo o l'RNA che codifica per quella proteina e che tu usi una o l'altra tecnica dipende molto da dove che tipo di cellula la vuoi colpire ad esempio se uno dovesse pensare di colpire le cellule del sangue anche esistono metodi per far entrare anche abbastanza efficientemente la proteina stessa all'interno delle cellule ad esempio tramite come un po' tecnico tramite elettroporazione quindi utilizzando dei campi elettrici e di fatto un altro modo il metodo classico per raggiungere organi all'interno di una persona è utilizzando dei vettori o qualcosa che somiglia a un vettore ad esempio noi stiamo virale quindi io prendo un virus lo svuoto delle parti che fanno male alle persone ci metto dentro quello che interessa a me e sfrutto la sua capacità innata e fantastica di entrare nelle cellule per portare il mio carico all'interno delle cellule ad esempio uno dei progetti che stiamo portando avanti è molto interessante di ridurre praticamente ai minimi termini questo virus e trasformandolo sostanzialmente in una specie di pallina contenitore inerte quindi che non fa assolutamente nessun male alla cellula ma conserva la capacità peculiare dei virus di entrare molto bene dentro le cellule ad esempio questa struttura che stiamo creando su cui stiamo lavorando può essere riempita di ad esempio proteina di nuovo e può essere utilizzata all'interno di un organismo vivente per introdurre CAS sicuramente questo punto che è serlevato è uno dei grandi scogli che rimangono da risolvere nell'ambito della terapia genica e quindi della terapia anche con CAS posso aggiungere una cosa se aspetti giusto per riprendere perché è un punto importante e il rischio è che ovviamente noi siamo dalla parte di quelli che vogliono applicare questa tecnologia quindi siamo un pochino viziati però leggevo l'altro giorno proprio un testo scritto da un gruppo di ricercatori su questo che diceva una cosa forse piuttosto vera questa tecnologia non è che aggiunge niente cioè la terapia genica c'era anche prima appunto il introdurre cambiare insomma il genoma in questo caso introducendo un pezzo nuovo di DNA è una cosa che stiamo facendo dagli anni 80 anni 80 e di fatto non la tecnologia di adesso ha raffinato enormemente questa attività laddove c'è un'auto in cui una gomma si buca finora mettevamo una quinta ruota che insomma ha avuto qualche successo anche molto insuccesso e qualche successo ma non è proprio il modo no? adesso interveniamo cercando di risistemare la ruota bucata è un po' questo quindi forse non c'è neanche più di tanto da discutere da aggiungere considerazioni etiche rispetto a quelle si facevano prima tutto sommato perché abbiamo solo affinato la nostra capacità di fare una cosa che da anni discutiamo e che vorremmo fare per curare i malati bene innanzitutto vi ringrazio che è la prima volta che ascolto una talk su questo ambito e mi sono sorto veramente tante domande alcune molto anche banali e da programmatore mi chiedo in cosa consiste cosa vuol dire programmare una cellula cioè fisicamente cosa che fate cioè io da programmatore batto tasti sulla tastiera voi cosa fate? in pratica questa forbice ha una componente che è Cas9 che è una proteina quindi ha fatto gli aminoacidi e ha una componente che è invece un acido nucleico quindi il DNA RNA sono acidi nucleici ecco Cas9 utilizza un acido nucleico che è questo RNA guida per riconoscere diciamo il sito che deve tagliare quindi cerchiamo di fare un paragone quindi tu ti puoi immaginare praticamente come se questa forbice fosse legata a un guinzaglio questo guinzaglio è l'RNA guida e il guinzaglio la ancora sul punto del genoma che deve essere tagliato il riconoscimento adesso qua forse un pochettino tecnico comunque chiaramente DNA e RNA sono fatti da basi quindi le lettere A, T, G ecco e di fatto RNA e DNA sono diversi ma sono anche molto simili e possono interagire tra di loro ora magari non tutti lo sanno comunque la doppia elica del DNA è tenuta insieme da delle interazioni tra le basi che sono specifiche sono state identificate appunto da Watson e Crick e l'RNA segue in questo modo le stesse regole quindi ci sono delle interazioni tra le basi quindi praticamente io programmo la CAS9 andando a sintetizzare praticamente una sequenza di RNA che sia complementare in termini di appaiamento tra basi con il bersaglio nel genoma che io voglio colpire quindi in pratica è una programmazione biochimica non so se è risposta esattamente alla tua domanda cioè tu fornisci alla forbice questa molecola che la guida sul punto che deve essere tagliato e di fatto tutta la programmazione sta nel riuscire a sintetizzare questa molecola di RNA guida ed è una cosa facile molto facile da fare ci sono tecnologie precedenti estremamente complesse da usare che invece di usare quel filento lì usavano proprio la proteina stessa si programmava la proteina si chiamano Talen Zinfinger Megatal ma erano talmente complicate da gestire che di fatto non hanno avuto un grande successo la verità è che l'enorme vantaggio al di là del costo economico è che tu sai esattamente come le regole che governano l'appaiamento tra queste due molecole mentre ad esempio per tutte quelle altre classi era un gran casino erano studi molto più complicati invece qua è proprio è una cosa cioè com'è la teoria così è la pratica ed è questa la cosa bella in pratica prego Alessandro ce la facciamo a tenere questi ragazzi qua da noi in Italia quanto sei preoccupato per la situazione della ricerca scientifica io faccio il possibile a letto tardi la sera loro a Boston guadagnerebbero tre volte quello che guadagnano qui il costo della vita a Boston è forse una volta e qualcosa quello del Trentino e dell'Italia noi facciamo tutto quello che possiamo abbiamo bisogno di aiuto e prima di tutto lo Stato deve darci un aiuto c'è un grafico fatto da Ambrosetti questa azienda che fa simulazioni che mostra come il tasso di PIL che cresce nei paesi abbia una correlazione lineare diciamo noi vada di pari passo insomma con l'investimento in ricerca e sviluppo c'è proprio questa correlazione così forte ora questa cosa è una specie di ovvietà economica dell'economia che sanno un po' tutti gli economisti ma anche fuori dal mondo dell'economia abbiamo avuto le lezioni recentemente io sono andato a cercare curiosando fra gli articoli che citavano appunto le dichiarazioni dei nostri candidati senatori e deputati la parola ricerca l'ho cercata proprio con gli strumenti di ricerca non c'è nessuno ha parlato della ricerca la ricerca è un motore di crescita è l'unico motore di successo economico di un paese ormai di un paese avanzato dei paesi diciamo che un tempo chiamavamo il terzo mondo forse le questioni sono un po' diverse ci sono altre esigenze noi produciamo 50 laureati in biotecnologia all'anno e stiamo facendo adesso una ricognizione per fare quello che chiamano nel mondo sono gli alumni gli alumni cioè quelli che un tempo erano tuoi studenti ti metti in contatto con loro faremo degli eventi per l'università lo sta facendo per capire dove sono che stanno facendo magari hanno voglia di riferirsi alla propria alma mater come si chiamava un tempo sono tutti in Svizzera negli Stati Uniti in Germania pochissimi sono rimasti qui quindi noi abbiamo prodotto questi bravi ricercatori lavorando 5 anni facendoli al nostro meglio investendo un sacco di soldi perché il nostro corso lei è una nostra studente il nostro corso è l'unico in Italia che fa il 50% di ore di laboratorio i nostri studenti arrivano alla fine del quinto anno sono a fare di tutto a contrario un po' dappertutto in Italia non sono a fare quasi nulla perché imparano quando sono nella tesi a volte ci guardiamo in faccia e ci diciamo perché lo stiamo facendo perché stiamo generando se non per l'interesse di questi ragazzi che non è poco voglio dire ma l'interesse del paese dove sta nel produrre un'alta qualità di formazione sapendo poi che comunque le persone se ne andranno noi abbiamo al Cibio 50 studenti di dottorato abbiamo 90 postdoc devo dire molti vorrebbero rimanere forse anche perché il Trentino è un bel posto dove stare e questo è un aspetto importante ma non riusciremo a trattenerli e la risposta sta dove? sta a Roma credo mancano 20 miliardi di euro alla ricerca italiana 20 miliardi di euro sono una finanziaria però se ci confrontiamo con la Germania e con la Francia con la Germania la Francia investe almeno 20 miliardi di più di noi sulle ricerche fondamentali la Germania non ve lo dico perché insomma credo che possiamo farlo un po' tutti noi c'è una una petizione su questo sito change.org fatta da un fisico di Roma che in pratica dice costringiamo diciamo alla commissione europea di costringere l'Italia a investire in ricerca quanto è previsto dal trattato di Lisbona che è più dell'1,5% del PIL che ancora non ci siamo capite un povero fisico un povero biologo cercano di trovare delle firme per dire alla commissione europea di costringere l'Italia a investire credo dovremmo essere un po' tutti a far questo noi non ce la facciamo da soli va bene allora se non ci sono altre domande io vi ringrazierei richiamerei magari quella slide in cui si mostrava appunto come possiamo anche noi dare un nostro piccolo contributo insomma sentivo leggevo che insomma voi avete anche esigenze diciamo di spazi mi pare che si parli di una nuova sede adesso se non sbaglio speriamo che anche questo possa aiutare in qualche modo si è una cosa che richiederà del tempo il progetto del Trentino Biopoli la provincia è molto sensibile a questa nostra attività e si prevede di realizzare una nuova struttura una nuova sede richiederà almeno 4 anni per realizzarsi dove cosisteranno aziende aziende biotech con l'attività di ricerca nostra e quella di altri ricercatori di area scienze della vita non siamo solo noi al Cibio modello pubblico privato di relazione più stretta insomma quello che noi vorremmo fare è una relazione talmente stretta che non sai dove ti trovi quasi tutti chi lavora nelle aziende chi lavora nell'accademia confusi con punti con la famosa macchina del caffè insomma dappertutto con occasioni di interazione e di scambio abbiamo fatto anche un giro per l'Europa per capire quale fossero le perché lei lo dice spesso mi pare che a volte le idee migliori vengono alla macchinetta del caffè dove mondi diversi si incontrano senza formalità questa cosa è avvenuta un po' così è cominciata con l'Anna Ceresetto che è venuta da me a farmi vedere questo articolo abbiamo cercato i soldi poi Antonio parla in continuo insomma avvengono così le cose migliori lo scambio continuo di informazione e la passione per quello che fai grazie da parte nostra un applauso ci fate sognare un futuro migliore grazie ancora grazie a tutti e buona serata grazie a tutti grazie a tutti